Più della partita, peraltro vinta in maniera sofferta dall'Arizzo con il Deruta, è stato il presidente Ferretti che ci ha spiazzato al termine. Di lui spesso abbiamo parlato in maniera positiva, decisionista, coraggioso, capace di prendere di petto una situazione che era stata nascosta e che stava precipitando. Ha saputo interagire con i tifosi, riportando la squadra in mezzo alla gente, addirittura ha messo mano alla decadenza dello stadio cercando di rimediare. Poi capita che la squadra non gioca come tutti vorrebbero, che i risultati non sono come erano nelle aspettative della vigia, alla pari della qualità del gioco espresso. E qual è il risultato finale? Una pessima parodia del peggior lotito a cui il presidente Amaranto sembra ispirarsi. La squadra a risso calcio è mia, quindi io comando, io faccio e disfo come mi pare. I tifosi hanno mostrato fiducia, hanno apprezzato quello che è stato fatto soprattutto con gli abbonamenti, ma ora certi atteggiamenti lasciano il tempo che trovano. A volte è meglio il silenzio che sicuramente può essere molto più esplicito di conferenze stampa dove peraltro è stato fatto riferimento ad un passato non collegato e ormai senza più senso.